Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi andiamo a vedere come cambiare la freccia laterale da bianca a nera Operazione di circa un minuto e mezzo, due minuti, niente di che Quindi intro e cominciamo subito Allora ragazzi per togliere la nostra freccia laterale dovremmo spingerla verso di noi E questa uscirà da sola Una volta uscita ruotiamo e questa si sgancerà Prendiamo una nuova freccia La ruotiamo così la luce si incastra Andiamo a mettere prima la parte con il bulbo E poi spingeremo Ok ragazzi come avete visto è un'operazione velocissima Vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto Di iscrivervi al mio canale se non l'avete fatto Di iscrivervi alla mia pagina Instagram Mitch Tuning Per questo video è tutto Io vi saluto Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti